Teresa Monteleone è candidata nella lista 100 passi per la Sicilia, Claudio Fava Presidente. E con le ragioni di questo suo impegno in politica in vista delle elezioni del prossimo 5 novembre? Sono candidata nella lista 100 passi per la Sicilia con Claudio Fava Presidente. Una lista che vede tanti giovani, donne e uomini impegnati in questa campagna politica, in questa battaglia politica perché crediamo nel rinnovamento, crediamo nel rilancio della nostra isola, della nostra Sicilia. Una Sicilia che è stata totalmente e completamente distrutta dal governo Crocetta e prima ancora dal governo Cuffaro e dal governo Lombardo. Noi siamo in discontinuità e tengo proprio a precisarlo questo, in discontinuità con il governo Crocetta, con il governo Cuffaro e Lombardo. E' una lista costituita dalla sinistra italiana, dall'articolo 1 Movimento Democratico e Progressisti, dagli ecologisti, da tutte quelle forze di sinistra che si riconoscono nei valori della legalità, nei valori della tutela dell'ambiente, nei valori della tutela anche per il riordino della scuola e infatti non dimentichiamo che il governo Renzi e anche il governo Crocetta ha totalmente smantellato il sistema scolastico e infatti per questo io mi candido, per dare un futuro ai nostri insegnanti, per dare un futuro anche alla nostra sanità che è stata completamente e totalmente distrutta. Una sanità che ha visto il governo Crocetta puntare sulla sanità privata più che su quella pubblica, infatti i ticket costano molto di più rispetto che le cure mediche costano molto di più con il pagamento dei ticket rispetto alle cure private. Quindi il mio impegno è per il rilancio della sanità pubblica, il rilancio anche del sistema scolastico, poi per parlare anche del rilancio del lavoro e infatti i giovani sono costretti ad andare via dalla nostra Sicilia. I giovani dobbiamo dare l'opportunità di rimanere nel nostro territorio, dobbiamo dare l'opportunità e dobbiamo appunto fare una programmazione dei fondi strutturali, dei fondi europei. Quindi queste sono le ragioni per le quali io mi candido. Potrei parlare ancora di acqua pubblica, tante battaglie sono state fatte, personalmente ho fatto delle battaglie essendo stata Presidente del Consiglio dell'Unione nel mio territorio, ma non abbiamo ottenuto nulla perché i nostri sindaci e i deputati non sono stati in grado di portare avanti quella battaglia. Anzi, hanno aspettato l'incostituzionalità e che la legge fosse dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e quindi da Roma, appunto per questo non hanno fatto nulla. Quindi non è valsa nulla quel referendum popolare che ha visto 26 milioni di italiani che hanno votato per l'acqua pubblica. Questo io mi appello di un disastro. Mi appello ai sindaci e ai sindaci locali affinché facciano la loro parte, cosa che finora non è stata fatta. Per non dimenticare anche quella commissione di indagine e di spessione dove molti sindaci, alcuni ne fanno parte ma che non hanno fatto niente per poter rendere pubblico tale servizio. Possiamo parlare ancora dell'energia, dell'energia alternativa, possiamo parlare ancora della riorganizzazione dei rifiuti. Basta seguire le buone pratiche del nord o addirittura le buone pratiche della nostra Europa. Quindi per queste ragioni mi candido nella lista 100 passi per la Sicilia. Grazie a tutti.